Con il vostro stile di vita comunitaria siete segno concreto che la Chiesa è la casa paterna dove c'è posto per tutti. Chiamate tutti, buoni e cattivi, e accoglieteli senza giudicare nessuno. L'ho detto Papa Francesco ai 9.000 membri delle cellule parrocchiali di evangelizzazione, incontrati in Aula Paolo VI al termine di una mattinata di preghiera e riflessione organizzata per celebrare il riconoscimento ufficiale della Chiesa con l'approvazione degli statuti. Voi avete la vocazione, ha ricordato il Papa, di essere come un seme mediante il quale la comunità parrocchiale, si interroga sul suo essere missionaria e per questo sentite irresistibile dentro di voi la chiamata a incontrare tutti per annunciare la bellezza del Vangelo. Rimanendo in ascolto della voce dello Spirito Santo potrete percorrere, sentire a volte ancora poco conosciuti ma decisivi per la via dell'evangelizzazione. Papa Francesco ha ricordato l'esperienza delle cellule di incontrarsi nelle case per condividere le gioie e le attese presenti nel cuore di ogni persona, esperienza genuina di evangelizzazione che assomiglia molto a quanto avveniva nei primi tempi della Chiesa. Questo vostro stile di vita comunitaria, capace di accogliere tutti, senza giudicare nessuno, aggiunto, offre l'esperienza della presenza di Dio e dell'amore dei fratelli. E nell'Eucaristia, cuore dell'evangelizzazione, facciamo esperienza dell'amore che non conosce i confini. Vediamo il segno concreto che la Chiesa è la cassa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Questa testimonianza. Ma la Chiesa è la cassa paterna. C'è posto per tutti, per tutti. E Gesù dice anche il Vangelo, chiamate buoni e cattivi. Tutti. Non c'è differenza. Grazie.